le altre domande sono le racchiudiamo un pochino in due battute allora se ti piacerebbe tornare a Sanremo per quest'anno e se in qualche modo ti piacerebbe condurlo il prossimo anno sai che ci sono state le cantanti che hanno cantato ma poi hanno condotto l'anno successivo però insomma volevamo girarti queste due domande mi piacerebbe condurre Sanremo però mi piacerebbe condurre Sanremo ma non credo di avere le competenze e beh ma mi piace no sai che cosa mi piacerebbe fare il dopo festival tipo con Valerio Lundini perché è mio amico ogni tanto ce lo diciamo sai che figata però no dai obiettivamente non ho le competenze per fare una cosa così invece Sanremo quest'anno detta sinceramente io devo riuscire lo giuro a arrivare alla fine di questo mese di dicembre perché cioè devo fare una quantità di cose quindi non ci sto proprio pensando